L'istituto geografico di Agostini presenta l'enciclopedia universale dell'arte, un'opera di grande prestigio finalmente alla portata di tutti. Enciclopedia universale dell'arte, una sintesi completa del patrimonio artistico universale. 15 volumi, 14.000 pagine, 10.000 illustrazioni. In edicola 223 fascicoli settimanali, con il primo in regalo il secondo fascicolo e la copertina del primo volume. Istituto geografico di Agostini, Novara.